gentili telespettatori buona giornata beh di salvini abbiamo parlato tanto ma sotto questo aspetto in versione smemorata ancora no ci mancava questo il salvini che non ricorda e come si fa non ricordare una cosa del genere sta andando in giro a dire che ha visto putin una sola volta sette anni fa caro salvini una persona pubblica un politico a capo di un grande partito tutto quello che fa è sotto il radar viene scansionato tutto tutto nessun post sfugge nessuna sfumatura sfugge nessuna foto figuriamoci si può se si possono raccontare le storie di babbo natale in televisione il giornalismo in generale i giornalisti ma anche i cittadini comuni sono molto attenti si ricordano perfettamente tutto non si può andare in giro a raccontare la storia di biancaneve salvini ma manco le basi una persona pubblica è sotto i riflettori sempre non puoi andare a raccontare che hai visto putin una sola volta sei smemorato non ti ricordi erca miseria e così il 28 febbraio ieri salvini in visita ad assisi dichiara di aver visto il presidente russo vladimir putin una volta sette anni fa cerca di prendere le distanze salvini cerca di prendere le distanze ma l'abbiamo visto con le magliette con sulla faccia di putin l'abbiamo visto con la fotografia dietro come santino a casa sua insomma magliette santino è una cosa un po adolescenziale una cosa un po sapete che di solito i ragazzi quando sono giovani hanno i miti no a volte anche dei miti sbagliati quando si è giovani si è anche un po estremisti vedete magari i giovani quelli che vanno al centro sociale quelli che invece aderiscono completamente dall'altra parte poi si cresce e si perde i ragazzi perdono un po quell'estremismo proprio dato dalla giovane età e all'essere alternativi appartenere a qualcosa qualcuno ecco caro salvini ai 48 anni e non ne abbiamo 15 siamo stiamo andando alle scuole superiori e caspiterina sono passati quei tempi eh quando io facevo il geometra non so tu cosa facevi abbiamo più o meno la stessa età andare in giro con la maglietta di putin o avere il santino o andare in giro col cappello col nome del presidente degli stati uniti una roba da da quindicenne io non l'ho fatto neanche a 15 anni ad andare in giro con la maglietta o col santino dietro le spalle no poi farsi fare una foto e diffonderla per far vedere tremendo 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 non so come fa come ha fatto quest'uomo ad arrivare al 33 per cento un italiano su tre pensare di votare lega e pensare a lui come presidente del consiglio non lo so comunque adesso cerca di prendere le distanze ho visto una volta sola cosa volete da me l'ho visto una volta sola sette anni fa il giorno prima ospite a mezz'ora in più sarei tre salvini aveva detto la stessa cosa quindi è una cosa premeditata se tu vai a dire in giro sempre la stessa cosa non è che hai perso la memoria lo fai in maniera premeditata anch'io chiamando salvini lo smemorato è in modo sarcastico perché sa perfettamente che sta dicendo poi non si capisce neanche bene per quale motivo perché devi dire l'ho visto una volta sola quando l'hai visto due volte potevi dire l'ho visto due volte anche se l'avessi visto cinque volte l'ho visto cinque l'ho visto 15 volte cosa c'entra l'aver visto un altro politico un certo numero di volte se l'hai visto una volta prendi le distanze se l'hai visto cinque volte allora vai a mangiarci la pizza siete amici che andate a braccetto non capisco però vabbè insomma dice io ho visto putin una volta 7 a 7 8 anni fa facciamo 50 anni fa lo vi ha sottolineato proprio nella trasmissione mezz'ora in più le cose però non stanno come dice il senatore il leader della lega ha incontrato putin almeno due volte di cui l'ultima nel 2019 l'ha incontrato nel 2014 nel 2019 quando era ministro dell'interno più in generale per anni salvini ha rilasciato dichiarazioni di forte sostegno al presidente russo elogiando a livello internazionale e intessendo rapporti con il suo partito russia unita oggi prende le distanze anche dal partito russia unita però perché rinnegare di averlo visto più di una volta qual è il qual è il problema mi chiedo io molto probabilmente quando parla del suo unico incontro con putin salvini fa riferimento a quanto avvenuto a ottobre 2014 quando era segretario della lega e aveva incontrato il presidente russo al margine del vertice asia europa tenutosi a milano il 16 17 ottobre ieri sera ha avuto l'onore di parlare 20 minuti con putin il vladimir giusto diceva ai tempi russia amica contro tutto stop invasione aveva scritto salvini il 18 ottobre su twitter bene adesso comunque ha sempre espresso salvini il sostegno al presidente russo vi ricordate si faceva fare i video e le fotografie dove come me per esempio immaginatevi io qua tengo una fotografia ecco il significato di nel tuo studio a casa tua addirittura avere una fotografia stiamo parlando di di adulazione no immaginatevi se io avessi qua la fotografia di boh che ne so di conte diceva quell'è un adulatore di conte e mettendola lì mostra dove si fa fotografare o fai video significa che è molto più di un adulatore un veramente un sostenitore ecco questa è la fotografia del salvini che non ricorda di aver incontrato il 4 luglio 2019 putin meno di tre anni fa in visita a roma l'ho incontrato l'allora presidente del consiglio conte i due vice presidenti del consiglio di maio e salvini ma caspita ma me lo ricordo io che non sono salvini me lo ricordo io di avere fatto dei video ho fatto dei video sull'incontro di salvini con putin nel 2019 e lui e non se lo ricordo sette otto anni fa l'ho incontrato a salvini che cerca di prendere le distanze e comico arca mia dovessi andare a zelig dovresti andare a zelig vabbè arrivederci a tutti e grazie ci vediamo al prossimo video